e qui con noi con grande emozione Tullio Di Biscopo però è sempre bello tornare a suonare nelle nostre zone perché almeno quando io canto delle canzoni in dialetto set non capisci invece a nord si capiscono ma capiscono il sound l'ironia e quindi è un grande piacere anche Tony è contentissimo perché oggi è anche il suo compleanno Tony Esposito, poi c'è Giovanni Russo, la New Band e suoniamo sempre con amore, con passione perché se manca due persone lo facciamo vedere anche al pubblico, scusate per Tony con tanti auguri di meravigliosa campiera con amore Tullio Di Biscopo e Friere sei grande Donì Spendio Di Biscopo e Friere Spendio Donì ho vinto un'altra notte ho vinto un'altra notte ma ho vinto 8, 15 e 24 scrisci avranno pagato in dollari ahhh ma perché non si bella di giù? tu sei scontato eh? si bella che un pezzo male non mi smutti giù in maniera abbatte di nero faccio scherzo tu oh 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 eeeh eheheheh yeahh Tony Esposito, vieni se c'è bella, mi fa arregrillare grazie, Tony Esposito, letto sincero grazie, mister Joe stiamo facendo una cosa importante tu pensi che l'LP, Acqua e Viento, dove c'era Statera, c'era Primavera, Stop By On il disco che mi produsse Pino Daniele, arrangiò interamente non è mai uscito in digitale un CD è rimasto LP tu pensa, le case discografiche, un successo straordinario di quel disco lì con grandi artisti come Lucio Dalla Don Cerri, c'era Pino, c'era fama di Don Moyet, Joe, io, Rino Zuzzo non l'hanno mai pubblicato in digitale allora io a novembre se ce la faccio, speriamo ma ce la devo fare rimasterizzo tutto e voglio far uscire Acqua e Viento correlato da un DVD che parla un po' della mia storia musicale dove ci saranno dei video storici straordinari jazzistici, funky, fusion quindi è un lavoro importante, ci tengo tantissimo è un canto fruttele di sangue e dolore insieme al silenzio di chi non vuole ascoltare e non è un canto fruttele di sangue Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione